Per parlare dello spettacolo che fra un po' andrà in scena, si chiama Lost in Veneto, che Loris ha scritto assieme a Massimo Carlotto. Io partirei anche da qua, insomma, dalla scrittura proprio. Buonasera, ciao. Sì, allora, il testo nasce qualche anno fa in realtà in alcuni suoi frammenti. Con Massimo abbiamo portato in giro alcuni spettacoli dove c'erano presenti queste piccole cellule. Poi io ho pensato di metterle insieme, aggiungendoci qualcosa di mio, con qualche cosa anche nuova ovviamente, perché mi sembrava urgente in realtà fare un ragionamento sul Veneto, su questa nostra terra, ma anche come metafora poi di una condizione più generale, nazionale, eccetera, eccetera. Certo, è uno spettacolo anche musicale e vorrei che tu ne parlassi. Sì, assolutamente sì. Io da qualche anno lavoro con Paolo Valentini, che è un chitarrista, e poi avevo incontrato artisticamente Rachele Colombo, che è una cantautrice vicentina di nascita, ma poi di adozione padovana anche lei, che lei ha intrapreso da anni una ricerca, e questo discorso sull'analisi del Veneto, la musica popolare veneta, rivista, attualizzata, anche sull'attuale, insomma, era una sua poetica da molti anni, quindi mi è sembrato naturale andarle a chiedere se voleva aiutarmi a concretizzare questo nostro lavoro. Chi poi ti vedrà lo scoprirà meglio che non raccontato a parole. Sei molto camaleontico sul palco, un po' come il Veneto. Forse sì. Sul palco si alterneranno diversi personaggi, che sono diverse facce del Veneto, non solo attuale, si parte anche da un ragionamento su dei Veneti antichi, che hanno dovuto lasciare questa terra, erano dei migranti, e si parte un po' da lì per cercare di capire, insomma, qual è la situazione attuale. E quindi dopo questo ragionamento sui migranti, eravamo anche noi, arrivano degli altri personaggi più attuali, dell'adesso, che dicono un po' che cos'è essere Veneti, essere qui ed essere adesso, fino ad arrivare anche a raccontare un tentativo di rivoluzione fallita. Perché appunto ci dipingono spesso o come polentoni, o come serenissimi in senso lato, ma forse c'è anche una sorta di lato B del Veneto, che almeno affiora non solo nello spettacolo, ma anche nelle esperienze come questa del festival, no? C'è un lato B interessante, molto secondo me, perché ha a che fare con l'identità, però in maniera... va bene, insomma, un po' nello spettacolo viene appunto affrontata questa cosa, però è come se l'identità significasse muoversi come un po' in superficie sotto certi aspetti, oppure affrontare solo determinati argomenti. Lo spettacolo è contaminato, oltre che formato dalle parole di Massimo Carlotto e dalle mie, anche da alcuni frammenti importantissimi di due giganti della letteratura veneta, che sono Meneghello e Andrea Zanzotto. La cosa, uno degli spunti proprio da cui è partito lo spettacolo, cioè il progetto dello spettacolo, era che si parlava di identità veneta, si parlava di cultura veneta, e però molto poco si sentiva parlare della cultura vera veneta, cioè per esempio di Meneghello e di Zanzotto. E quel tentativo dello spettacolo è un po' questo, cioè di mettere una parola anche in questo senso su che cosa significa essere veneti adesso. Il centro però del significato dello spettacolo è lo spaesamento in realtà, cioè tutto questo giro di personaggi, eccetera, eccetera, ci porta a pensare che in realtà non c'è un'identità vera. Siamo spaesati, siamo persi dentro la nostra terra. Questa è purtroppo amaramente la conclusione, o comunque lo spirito per cui abbiamo fatto lo spettacolo. Ho una curiosità che è la seguente. Gli spettatori a loro volta a tratti sono un po' spaesati perché non si aspettano uno spettacolo di questo tipo, ma con i vostri occhi e con le vostre orecchie, presentandolo e girando anche un po' per il Veneto, che cosa ne avete ricavato? proprio dalla rappresentazione e da quello che immagino anche dal dialogo che c'è poi con chi assiste allo spettacolo, no? La cosa più spesso che ci viene detta è che l'argomento è centrato. Nel senso che questa sensazione di essere un po' persi è molto diffusa in realtà. La sensazione è che lo spettacolo la concretizzi, cioè dia una sostanzialità a chi vede e dice «Accidenti, però, è vero, non ci avevo pensato quasi, qualcuno dice». Oppure qualcuno dice esattamente quello che sento. Oppure qualcuno dice che è... scopre, per esempio, delle cose. Scopre Meneghello. C'è un frammento nello spettacolo di Amleto, di Shakespeare. Meneghello ha tradotto Amleto in vicentino facendo questa operazione straordinaria con un linguaggio, un dialetto poeticissimo, una lingua alta proprio. Non è Parle Veneto anche quei fioi questo, adesso scusa se... è ben altra cosa. Questo significa, secondo me, fare cultura e farlo riferendoci a quello che siamo, la nostra lingua, eccetera. Quindi, ecco, insomma... Se mi passi la battuta è libera la nostra malo? Sì, è liberaci dal male, è liberaci da malo nel senso del paese e quindi da tutti i nostri piccoli centri, da i nostri piccoli orticelli che coltiviamo. Invece il tentativo è proprio quello di aprirci, di aprire, no? Partendo ovviamente da quello che siamo, dalla nostra lingua e da quello che vogliamo essere adesso, ma inseriti ovviamente nel mondo, cioè, insomma... Io poi ti chiederei anche di fare un piccolo sforzo che è il seguente. Tu fai teatro, normalmente, diciamo, tra virgolette, ma fai teatro nelle scuole, in carcere, come dire, fra un po' dovunque, ecco. E se tu potessi un po' almeno sintetizzare questa esperienza su più fronti? Beh, intanto, voglio dire, questo la dice lunga sulla difficoltà anche di fare questo porco mestiere, nel senso che delle volte si è costretti anche a cercare delle nicchie. Io l'ho fatto con grandissimo, grandissimo interesse. Da moltissimi anni lavoro con i ragazzi delle scuole superiori e da un anno lavoro nel carcere Due Palazzi, che è qui dietro, che è, devo dire, un'esperienza straordinaria. Confrontarsi con queste persone che ovviamente hanno un'altra professionalità, non è quella del teatro. E usare il teatro come strumento è stata un'esperienza per me, come attore, come regista, straordinariamente forte. è un po' come ripescare il senso vero del mio mestiere. Il mio mestiere è quello di parlare alla gente, di cercare di capire che cosa voglio dire e cercare di metterlo in una forma. E soprattutto è cercare di trovare delle urgenze, cioè delle cose che devono essere dette adesso, non domani, perché sono necessarie. Il lavoro, specialmente il lavoro in carcere, ti mette di fronte quotidianamente con questa necessità. Lì, cioè, in questo momento, secondo me, come dice Ascanio Celestini, ne parlavamo prima, lì c'è veramente la necessità del teatro e il teatro è necessario. L'ultimissima questione, anche un filino polemica, a Padova gli spazi per fare teatro sono un po' difficili, no? Se magari inquadriamo un attimo anche questo aspetto... È disperata la situazione a Padova. Ci sono solo due teatri pubblici, il Verdi e il Teatro delle Maddalene. Il Teatro delle Maddalene oggi è chiuso. È stato chiuso perché un anno fa c'è stato il terremoto e quindi ci sono delle necessità di restauro, insomma, ma è chiuso. Quindi la città in questo momento non ha spazi pubblici nei quali poter fare teatro se non il Teatro Verdi che ovviamente ha una programmazione che è quella che gli è propria ed è assolutamente full, insomma, quindi quasi inaccessibile per tutto il resto. e basta. Poi ci sono degli altri teatri però sono teatri privati legati ad altre realtà quindi o i circoli quindi teatri molto piccoli oppure i teatri di realtà legati magari alla chiesa cose di questo genere che loro ce li hanno e giustamente li sfruttano però voglio dire noi siamo in questa condizione siamo un po' anche qui spaesati nel senso che non abbiamo casa. Quindi con una battuta finale possiamo dire al teatrino della politica di tenere presente anche questo aspetto del teatro di Padova. Io credo che laddove non ci sono i teatri si perda in civiltà. Se c'è un teatro ci sono due teatri uno dei due è chiuso e non si fa in fretta a riaprirlo si perde in civiltà. Soprattutto poi bisognerebbe aprirne anche un altro oltre a quello. Ecco, io penso questo. Io ringrazio Loris Contarini invito chi passa per Sherwood a venire ad assistere allo spettacolo o eventualmente a vederlo dovunque verrà replicato nei prossimi mesi. Io ringrazio te e ringrazio tutti voi. Ciao. Grazie a tutti.